L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti signori, è un tramonto zona industriale ma la cosa spettacolare è che così non mi era mai capitato, nel senso che è acceso in un modo incredibile è acceso, cangiante, rovente, quindi vedete una palla di fuoco che nella parte centrale è arancio qui la vedete con un riflesso che già l'ognomia a distanza la vedo arancio varie diciamo degradé un po' più chiaro e c'ha delle zone che sono ripeto cinerine un po' più non so vedete adesso qui riesco un po' muovendomi, cerco di farvelo vedere spero signori molto molto, è spettacolare, molto molto bello, davvero ripeto questo degradé arancio, gradevolissimo